Pontili gratis quando sei in vacanza. Proprio così, esiste una legge che ti permette di non pagare il pontile se rimani fino alla fine del video, lo scopriamo insieme. Ok, let's go! Ciao, sono il capitano Giuseppe Cracchiolo e oggi voglio parlarvi dell'articolo 49 nobies del codice, il quale prevede che i concessionari dei pontili o strutture similari devono permanentemente riservare alle unità da diporto, a vela o a motore, tratti di banchina per gli accosti in transito o che approdano per rifugio, commisurate le dimensioni delle unità da ormeggiare in termini di dimensione e pescaggio. I tratti di banchina sono riservati per la durata massima di 72 ore, rinnovabili per un ulteriore periodo di pari durata nei casi di avaria dell'unità. L'ormeggio per le unità da diporto in transito o che approdano per rifugio è gratuito per un tempo non inferiore alle 4 ore giornaliere. Le tariffe e gli orari relative all'utilizzazione gratuita degli accosti in transito o per rifugio sono resi pubblici dal gestore dei porti o degli approdi turistici. E tu, lo sapevi? Scrivicelo nei commenti e non dimenticare di seguirci sui nostri canali social TikTok, Instagram e Facebook per rimanere sempre aggiornato.